uè non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 6 di questa stagione 8 di fortnite le abbiamo viste già alcune che ho caricato sul canale anche il video dello standardo segreto ma ragazzi la sfida più particolare non difficili semplicemente un po più lunga è quella di visitare le 5 i 5 punti più alti della mappa di fortnite e allora ragazzi non perdiamo tempo e andiamo molto velocemente a vedere tutti e 5 i punti partendo dal primo ragazzi che non è altro che la torre del castello a picco polare come vedete ragazzi nell'angolino in alto della torre quello che da sui vichinghi c'è un cartello con scritto 170 metri che è uno dei punti più alti quindi basta semplicemente atterrarci lì vicino e quindi una parte di missione è completata ma andiamo avanti ragazzi è il punto numero 2 invece è 130 metri come vedete si trova proprio sul sottomarino quello che è lì in poche parole dalla season numero 7 in cima alla montagna come vedete siamo molto vicini a rapide ghiacciate atterriamo sul sottomarino e facciamo la location numero 2 andiamo avanti e la numero 3 invece si trova a 111 metri mi sembra di leggere siamo sulla montagna della casa dei malvagi quella in poche parole vicino a spiagge snob avete capito certamente di che montagna si tratta come vedete di fronte a noi ci sono i vichinghi alla sinistra del personaggio c'è picco polare atterriamo sopra quella montagna già che ci siamo possiamo approfittarne per luttare la casa dei malvagi non dobbiamo comunque spostarci molto per il punto numero 4 ragazzi è la montagna quella dove ci sono gli alberi in cerchio e le rampe da stante in poche parole la montagna più avanti rispetto a quella che abbiamo appena visto come vedete siamo sempre lì vicino tra i vichinghi tra spiagge snob dietro di noi di là c'è ci sono pinnacoli se non ricordo male quindi ragazzi location numero 4 la montagna con tutti gli alberi messi a cerchio e ovviamente chiudiamo dai l'avete già capito qual è la location numero 5 non può che essere ovviamente ragazzi una delle pendici di una delle parti alte del vulcano siamo praticamente nel versante che da su corso commercio 172 metri ovviamente è attualmente il punto più alto della mappa di fortnite beh ragazzi direi che per oggi vi ho detto tutte e cinque le location vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator noi ci vediamo in live ciao